Allora, hai fatto una scelta che lì ci apprequenterai l'anno prossimo? Beh, credo che sceglierò il classico. E che studierai? Latina e greta. Quindi materie inutili, come è che si dice? Lingue morte. Caius Julius Caesar, latine loquebatur, et multa facebat. Che stai dicendo? Ottime cognoscis, id e colopor. Quid, cur latine lobor. Pensi ancora che il latino e il greco siano lingue morte?